Il professor Wilmar che ne ha creato un'altra delle sue, ha trasformato l'intero mondo di Minecraft in un mondo maledetto. Adesso tutti gli animali e tutti i mostri di Minecraft hanno delle sembianze umane! Oh mio Dio, avete capito bene. Per esempio, guardate questo pesciolino. Ok, vabbè, il pesciolino non c'è più. Ecco, prendiamo ad esempio l'oro. Riuscite a vedere qualcosa di strano? Non sono dei pesci normali. Scusi, puoi scendere qua per favore, signor pesce? Guardate, i pesci adesso hanno un corpo delle gambe, dei piedi e delle braccia. No, è troppo strano, non mi potrò mai abituare a questo mondo. Ma sì, sono sicuro che qua fuori in realtà non sarà cambiato nulla. Forse sono cambiati solo i pesci. Sì, sì, sì. Oh mio Dio, cosa? Scusi, lei, tutto bene? Che cosa c'ha? Dei dolcetti al posto delle mani. E lei, signor orso polare? Oh mio Dio, ok, no, 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 non mi potrò mai abituare a questo mondo. Ma cosa? I panda! Oh, ma i panda sono bellini però così. Però sei dimagrito, sei dimagrito di molto te. No, vabbè ragazzi, che cos'è? Lo zoo? Lo zoo degli esperimenti? Il pappagallo! Il pappagallo fa troppo ridere. Non ci posso credere. Allora, li voglio vedere tutti. Guardate il mini maiale! Ciao, mini maialino. No, non è possibile. Le pecore! Le pecore! Fatti vedere. Sei, sei orripilante. Mio Dio! Fa troppo strano. Non ci riesco. Non... Non ci riesco. Le api. Ma siete schifose! Mamma mia ragazzi, voglio tornare a Minecraft normale. Lasciate un mi piace per riportarmi nel mio mondo di Minecraft. Non voglio vivere qua con... I cavalli umani. Però tu sei carino, devo dire. Ti posso cavalcare? Allora, vediamo ragazzi. Diamo un'occhiata a tutti gli animali e a tutti i mostri. Perché ovviamente Minecraft ne ha tantissimi. E sono sicuro che qualcuno ci stupirà proprio come il pappagallo. Beh, tu non si è cambiato di nulla. Oh! E che mi attacchi però? Sempre scorbutico e aggressivo. I conigli! No, non è possibile. Cosa ti hanno fatto, piccolo coniglietto? Cosa ti hanno fatto? Perché sei così? Cos'è successo? Dannazione al professore! Che cos'è questo posto geneticamente modificato? Ha dato gambe e braccia a tutti! Vabbè, voi ce l'avevate già. Ok, no, wow, 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 calmi eh! Perché mi attacchi tu? Vabbè, loro ragazzi erano già così. Erano già umani. La strega pura. Ehi! Ma allora? Che maniere? Oh mio Dio, gli shulker! Sì, siete decisamente diversi. Oh mio Dio, quella è la testolina dello shulker! Ragazzi! Non ci posso credere! Ve l'ho detto che ne valeva la pena guardare questo video. Ne ero sicuro al 100%. E basta! Fammi salire un attimo! Oh! Allora! Se soltanto potessi attaccarti! Cioè ragazzi, allora, fino ad ora i più strani sono lo shulker, pesci e poi cos'altro abbiamo visto? Oh mio Dio! Voglio vedere il drago. Voglio vedere l'ender dragon. Per ultimo! L'ender dragon per ultimo! Il ghast! Ma cosa ti hanno fatto? Cosa? I blaze? Oh mio Dio! I piglins! Gli scheletri! Non è possibile! Non è possibile! Quindi questo qua è il nether. Qua ci troviamo nel bioma nether. Ecco il piglin che sei bruttissimo. Mio Dio, sembri aerobrain. Allontaniamoci immediatamente da quella creatura maledetta. Come faccio a uscire? Così? E voi? Oh, ma chi è che mi attacca? Oh! Un vex! Un vex umano! Potremmo quasi chiamarlo un vex. E questa la capiranno in pochi. Qua chi c'è? Oh! Un'armatura però l'elmetto... Potevate fare di meglio con l'elmetto sinceramente. Vabbè! Accontentiamoci. Prendo tutto quanto. Anche l'elmetto. Sì, purtroppo dovrò indossarlo. Se voglio evitare di morire contro tutti questi mostri famellici e strambi. Quindi aspetta, abbiamo visto il nether. Questo sembra il mio castello della Candy Craft. Guarda là. Abbiamo visto il nether. Abbiamo visto l'end. Cosa manca adesso? Beh, c'è il mondo normale da esplorare. Voglio esplorare anche l'end. Non l'end city soltanto. Però voglio anche vedere il wither. Cosa succede se spawno un wither qui? Ma che figata sto posto. Con le bad lance là vicino. Allora, proviamoci eh. Allora, summon wither. Devo attivare la creative. Eccoci! Vediamo. Ma... Non riesco a capire. Ok, è umano. È vagato? Oh, eccolo! No, ma ragazzi. Non si può guardare. Sembra che ha tipo dei bambini seduti su di lui. Ah, perché ce li ha? Sono i suoi bambini? Sono i suoi figli, mi sa. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ah, no, no, no. Il wither non si può guardare. È veramente tremendo. Facciamo così. Visto che posso volare... Ah, avevo ragione allora. Questo è uno zoo degli animali. Ha messo qua tutti i suoi esperimenti strambi. Li ha messi tutti in un unico punto. Così che tutti potessero vederli. Ci sono anche le scimmie. Dove sono le scimmie? Non ci sono le scimmie? Uffa, volevo delle scimmie. E qua? Oddio i silverfish. Fermi un attimo. Fermi un attimo. Come si chiamano? Pesciolini d'argento? Pesciolini d'argento. Eccolo qua. Vediamo. Che schifo. Che schifo. Fa anche più schifo del silverfish normale. Cioè avete visto ragazzi? C'ha il corpo. Ed è lì che fluttoa. Che fa... Come un serpente. Mamma mia che schifo. Allora. I panda l'abbiamo già visti. Pupazzi di neve. Gli orsi polari pure. E tu che cavolo stai facendo? Ma cosa? No ragazzi. Dai. Dai ragazzi. Ma che cosa sto vedendo? Ok. Wow. Non ho visto i polli. Vediamo l'uovo di pollo. Ecco. Vabbè. Un mini bella faccia. Dai. Diciamolo. È bella faccia. Siete anche stupidi come bella faccia per caso? Qualcosa mi dice sì. No vabbè. Ma sono inquietantissimi quando camminano. Guarda. Cioè quando scappa è inquietante. Fa proprio... Oh cavolo. Che altri mostri mi sto dimenticando di vedere? Non lo so ragazzi. Consigliatemeli voi. Perché io alcuni secondo me me li sto dimenticando. Qua che c'è? C'è un piccolo tempio con un asinello. Guardate che strano l'asinello. Però devo dire è bellino l'asinello. Con la coda e tutto ci sta. Gli Enderman. No vabbè. Gli Enderman non saranno cambiati. Cioè non ha senso. Endermite ed Enderman. Ok. Vediamoli entrambi. Vediamo l'Enderman. Ok sì. Ha cambiato anche l'Enderman. E fa ancora più schifo di prima. E l'Endermite è carinissimo. Possiamo diventare amici? Eh piccolo Endermite vuoi diventare il mio amichetto? No. Ecco forse è meglio non trattarli in questo modo gli amici. Credo sia arrivato il momento ragazzi di guardare cosa si trova all'interno del Land. Sono curioso di vedere cos'è successo al Drago. Se non l'avete ancora lasciato mi piace a questo video mi raccomando datevi una mossa. 3, 2, 1. Si entra. Oh mamma mia che cosa... Cosa avrà fatto il Drago? Cosa gli avrà fatto? L'avrà rovinato per sempre. Vediamo. Dov'è? Drago? Sta volando. Ma... Che cavolo? Ma... Ma scusa? Cioè questo è il Drago di Minecraft? Ma non farebbe paura a nessuno? No, 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 no. Mi rifiuto. Mi rifiuto. Fermi un attimo. Fermi. Voglio provare ad attaccarlo. Voglio vedere cosa fa quando muore. Non è possibile. Dai non può essere il Drago di Minecraft. Perché fanno questi esperimenti pazzi? Cioè ragazzi questo è il Drago? Io le ho viste tutte oggi. Io le ho viste tutte. Ma tu non faresti paura neanche a un neonato. Sembri un marshmallow gigante. Piccolo draghetto. Dai catapultami via. Ragazzi non voglio più vivere in questo mondo maledetto. La faccio finita. Voi mi raccomando lasciate un bel mi piace dal vostro Kendall e tutto. E noi ci vediamo domani. Con un prossimo video. E ciao.